A volte è il ginecologo che vede una ragazza, meglio la ginecologa, perché magari è più facile avere più confidenza sulle problematiche sessuali e la giovane donna dice, ah dottoressa, a me proprio l'orgasmo mai è nel rapporto. Che cosa dobbiamo valutare? Se questa anorgasmia, oltre a fare tutta la diagnosi differenziale da altri fattori femminili di difficoltà, non sia in realtà indotta dalla precocità di lui. In questo caso, in sessuologia medica, si parla proprio di induttore del sintomo, in questo caso lui, e portatrice, portatore del sintomo, lei. E' quindi molto importante, anche per il medico di famiglia, oltre che per l'urologo, l'andrologo o il ginecologo, ragionare sempre tenendo presente che l'amore, quasi sempre, si fa con qualcuno. E che il qualcuno è un elemento critico anche nella modulazione del problema, o nel riportare le conseguenze di quel problema, e quindi può essere la donna la prima a chiedere aiuto. Quindi, di nuovo in questo caso, se lui è ad essere precoce, io dico, guardi, oggi abbiamo delle terapie molto efficaci, maneggevoli, sicure, dica al suo partner di parlare con l'urologo, con l'aldrologo, con il medico di famiglia, per avere una diagnosi accurata, in modo da curare altri fattori che possano accelerare il riflesso eiaculatorio, e se il problema fosse poi un'eiaculazione semplice e primaria, dargli una terapia locale, facile, uno spray, tre gli docaina, prilocaina, tre spruzzi, cinque minuti a posto, ragazzo felice, donna più soddisfatta, e abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Perché? Perché abbiamo capito, uno, che lei era portatrice di un problema indotto da lui, due, che abbiamo suggerito un approfondimento diagnostico, perché ci possono essere altri fattori che accelano il riflesso, e tre, abbiamo dato una risposta adeguata invece che banalizzare o minimizzare.